Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 per paura che ormai non avesse padroni, lo fermò con la morte e freddò le stagioni. Mi cercarono l'anima a forza di un botte, e se furono i guardi a fermarmi la vita, e proprio qui sulla terra la me l'ha proibita, e non c'è io ma qualcuno che per noi l'ha inventato, di costruire a sognare in un jardino encantato. Grazie.